Camminatori e viaggiatori, oggi vi parlerò di una delle mie app preferite per vagabondare, Locus Map. Se vi state chiedendo se sono sponsorizzato per fare questa video recensione, la risposta è no, come sempre. La prima cosa che dovete sapere è che esistono due versioni di questa app, una free e una pro, e visto che noi del cammino del cretino siamo così attenti alla poesia, vi dirò subito quanto costa quella pro. Potrete avere la versione pro all'incredibile prezzo di 9,90€. Otterrete numerose funzioni aggiuntive, ma soprattutto eliminerete tutta la pubblicità fastidiosa. 9,90€ una tantum, vuol dire che pagate una volta e ce l'avrete per sempre. Ma no, mi sento Saul Goodman. Il mio nome è Saul Goodman, sapevi di avere dei diritti? Ma devo dire che anche la funzione free è molto valida, quindi non la sottovalutate. Ora fate le dovute presentazioni, andiamo a vedere entrambe le versioni nel dettaglio. Ho visto che sta, iscriviti al canale, che quello è gratis. Basta che clicchi qua sopra. Dai, su, è facile. Vi ho preparato qui le due versioni di Locus Map, quella pro e quella free. Naturalmente iniziamo da quella free. Scaricherà una mappa online preimpostata su cui, se avrete salvato già dei percorsi, ve li riporterà. Iniziamo dalla schermata in alto. Abbiamo qui una lente di ingrandimento da cui potrete cercare una località, un posto o un punto di interesse. Il localizzatore GPS che vedrà tutte le coordinate e la bussola sulla destra. Anche questa, naturalmente, potete capire l'importanza che ha in un'app come questa. Sul più possiamo inserire dei pannelli, quindi possiamo personalizzare la parte alta, praticamente, della schermata. Qui ci andiamo dopo, che sono le impostazioni generali. Qui abbiamo i livelli, possiamo modificare la nostra mappa, aggiungere degli elementi attivi, dei layer aggiuntivi, però queste sono funzioni abbastanza avanzate. Se clicchiamo qui in basso a sinistra ci dà la nostra posizione esatta. Se invece vogliamo ruotare la mappa o cliccando su questo cono di luce, ci dirà precisamente da che parte siamo girati. Se ci spostiamo, si sposterà naturalmente, cioè se ci giriamo, si sposterà anche questo cono di luce. Questo più e meno servono per ingrandire e qui invece se vogliamo bloccare lo schermo o lo zoom. Ma entriamo nel vivo di questa app e andiamo a vedere tutte le sue funzioni. Iniziamo dalla prima che è cerca, l'abbiamo già vista prima, serve per cercare qualcosa, una località o dei punti sulla mappa. La sezione condividi, da questa sezione possiamo condividere la nostra posizione attuale. Possiamo mandare ad altre app per condividere la tua posizione su Facebook, invece devi avere la versione Pro. Qui adesso andiamo a vedere il registratore di tracciato. Potrete selezionare a piedi o in bici e a mettere anche dei parametri, ma queste sono versioni avanzate, credo che sia solo per la sezione Pro. Potete anche collegare un hardware esterno naturalmente come rilevatore e GPS. Vi basterà spingere sul bottone verde, sul play e inizierà a registrare tutto il vostro percorso. Abbiamo anche la funzione navigatore. Qui potete decidere come scegliere la vostra destinazione, se è in bici, mountain bike, corsa, camminare, escursione, insomma potete personalizzarla come volete. Quando scegliete una destinazione funziona come qualsiasi altro navigatore e vi dà il percorso più breve o con meno traffico a seconda delle impostazioni. La sezione elementi della mappa serve semplicemente per importare degli elementi, delle tracce, insomma è qualcosa da importare esternamente, poi li vedrete sulla vostra app. La funzione molto interessante è la localizzazione in tempo reale. Potete praticamente condividere la vostra posizione, i vostri spostamenti minuto per minuto. C'è anche una live chat inclusa, 10 minuti di cronologia per la posizione e potete condividerlo ad altre persone che hanno Locus Map. Bisogna creare un profilo, sia gratuita nella versione standard oppure quella personalizzata, c'è bisogno della versione pro. Siamo arrivati finalmente a una delle mie funzioni preferite, il pianificatore di percorso. Con questa vi faccio anche degli esempi. Ipotizziamo che voi vogliate fare un trekking sul Colle Termineto, ma il Colle Termineto sembra pugliese, invece no, siamo nel Lazio. Allora, io posso portare il cursore, ipotizzando che io parta da Montebuzio, io posso portare il cursore qui e il mio cursore centrale, questo qui al centro di Montebuzio, e aggiungere un punto. Da qui, ipotizzando che io voglio arrivare sulla cima del Colle Termineto, aggiungo un altro punto e lui automaticamente, impostando camminare o escursionismo, ci calcolerà il percorso più breve. Dicendoci che è lungo 2,3 chilometri, se clicco qui in basso a destra, dovrei poter avere anche le informazioni altimetriche, ma è solo una funzione riservata alla versione Pro. Quindi, cosa vuol dire? Che in questo modo io poi posso andare anche a salvare la mia traccia. Vado a salvare la traccia, oppure posso svuotare la pianificazione. Tutto questo con pochissimi clic. Quindi, come dice la parola stessa, il pianificatore di percorso vi aiuta in fase di pianificazione. Io lo trovo veramente utilissimo. La funzione Importa serve a importare dei file che magari avete scaricato, delle tracce, dei punti, delle mappe, tutto quello che vorrete importare. Nella sezione Tracciati possiamo anche creare delle cartelle, come ho fatto io, e dividerle con magari diverse tracce all'interno e possiamo attivarle o disattivarle sulla nostra mappa. Quindi, se vogliamo nascondere queste mappe, basterà cliccare sull'occhietto. Possiamo anche andare a esportarle, importarle, cestinarle. Insomma, abbiamo tutte le funzioni di cui abbiamo bisogno. Locus Point Offline, sinceramente non ho mai capito a cosa serva. Il parcheggio, vabbè, se date la vostra posizione vi segna dove avete messo la macchina, questi per i più smemorati. Avviso di punto, è una funzione Pro, praticamente vi avvisa quando siete a una certa distanza da un punto che vi siete segnati, ma questa è una funzione Pro. Il Meteo, anche, è un'altra funzione Pro, ma sinceramente non la trovo così indispensabile, visto che ci sono tantissime altre app che fanno la stessa cosa. Le note, se volete aggiungere delle note ad alcuni punti sulla mappa, ma anche questa mai utilizzata, sinceramente, no. La gestione dei backup, vabbè, questa è come qualsiasi altra app, decidete come impostare i vostri backup. Quello automatico va benissimo. La versione Cruscotto è molto utile, ma ve la farò vedere nella versione Pro, visto che è riservato a quello. Potete collegare dei dispositivi Bluetooth direttamente alla app, quindi se usate dispositivi dedicati magari al ciclismo, alla bici o cardiofrequensimetro, potete connetterlo direttamente all'app. Passiamo alla versione Pro. Allora, innanzitutto noterete che la grafica della mappa è leggermente diversa, proprio perché io ho acquistato questa mappa della Locus Map, a parte, quando voi acquistate con i 10 euro di acquisto di Locus Map Pro, vi regalano anche la possibilità di acquistare, credo, 3-4 mappe. C'è tutto un sistema di crediti, cioè voi non potete pagare direttamente i contatti, comprate una moneta di Locus Map e con quelle vi prendete la mappa. Ma vi dico già che anche se vorreste comprarne altre, oltre alle 3, gratuite. Una mappa costa sui 2-3 euro, quindi niente di trascendentale. Ah, le stessissime funzioni della Locus Map free. Abbiamo in più il meteo, ma che è sinceramente, sì, utile, ma ripeto, potete ovviare a questo problema in tanti altri modi. Il geocaching di Locus Map, qui se volete importare dei dati, dovete scaricarvi un'altra add-on, ma sinceramente io non l'ho mai utilizzata. Una funzione molto interessante è l'editor cruscotto, cioè se io decido di crearmi un nuovo cruscotto, chiamiamolo prova, la fantasia. Qui ci dà tutti i riquadri in cui se io qui voglio mettere la latitudine, mi segnerà la latitudine. Se qui vorrò mettere la velocità, mi metterà la velocità a chilometro orario. Insomma, possiamo decidere di modificarlo come vogliamo e una volta creato, ora ve ne apro uno già fatto, noi possiamo spostarci sulla mappa e questi dati ce li avremo sempre in sovraimpressione. È molto carina, diciamo, questa funzionalità. Possiamo sovrapporre delle mappe, cosa che si possiamo fare solo con Locus Map per avere magari più dati su una determinata area. Abbiamo anche delle impostazioni rapide, fra cui l'altitudine dinamica. Questa è veramente molto utile, perché a seconda di come io sposto il cursore mi dice a che altezza si trova. Ad esempio Civita Castellana è a 100 metri d'altezza, mentre Borghetto è a 46 metri d'altezza. Che voi siate dei ciclisti, dei motociclisti, insomma qualsiasi tipo di viaggiatore, io trovo questa app veramente, veramente completa ed utile, sia in fase di viaggio che in fase di programmazione. Offre svariate possibilità di personalizzazione, potete anche condividere i vostri percorsi e le vostre tracce in portale, insomma è veramente completa. La versione Pro naturalmente ha qualche funzione in più per i più esigenti, ma anche la versione free, come avete potuto vedere, è abbastanza completa. Quindi per i più genovesi iniziate con quella free, se proprio vedete che vi serve qualcosa in più, allora passate alla Pro, spendeteli sti 10 euro, dai su! Buona programmazione, buon cammino e ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino! Ciao! 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 Ciao!